ciao a tutti bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su the outer words secondo episodio quello pubblicato ieri per mettere un paio di puntini sulle i su alcune cose allora desidero scusarmi per due cose prima di tutto il fatto che ho messo la registrazione in modo sbagliato in pratica avevo un microfono che registrava sia davanti che dietro quindi registrava il mio click sulla tastiera come un volume e la mia voce con l'altra quindi probabilmente adesso mi sentirete meglio e la seconda cosa perché ho fatto l'errore veramente grossolano di aver detto Bioware anziché Obsidian il gioco sviluppato da Obsidian volevo dire effettivamente quello ma ho sbagliato distribuito sotto i Private Division che ringrazio ancora una volta per questa opportunità e Microsoft invece da quello che ho capito sono entrati in collaborazione perché appunto trovate il gioco anche sul Game Pass se siete abbonati allora io ora sono tornato sulla nave voglio provare a fare una cosa ho fatto quella missione ci avevamo lasciati l'altra volta del becchino in pratica ho dovuto fare un po' di cose sono riuscito a completarlo ho fatto il livello 3 voglio vedere se riesco a usare il banco da lavoro e vedere se riesco a fare qualcosa tipo non so un silenziatore o qualcosa vediamo adesso vedete anche il grado di usura dell'arma quindi io seleziono l'arma installa modifica interessante cos'è questa banco da lavoro modifiche modifica che caricatore nuova e sarebbe figo perché andiamo a potenziare esamina vediamo un po' questa lo trovate in giro probabilmente faremo danno magari la andiamo allora vediamo un po' prendiamo un'arma che non abbiamo ancora usato installa modifica questa installa modifica modificare pistola leggera con caricatore energetico le modifiche ok non possono essere recuperate ok questo adesso è diventato danni plasma ok non ho altro pensavo speravo di poter fare una bella modifica al mirino insomma vabbè adesso abbiamo dieci cento danni di tipo plasma va bene voglio acqua possiamo manipolare le armi a ripararle quindi voglio ripare beh mi sembra l'ho messa anche piuttosto bene e anche l'armatura mi sembra abbastanza bene per possiamo andare a smantellare qualcosa vediamo un attimo se riesco a smantellare un po' più veloce 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 e questo fucile d'assalto fa due cento e quindici danni direi che voglio andare subito a equipaggiarlo perché poi facciamo un'altra missione allora cento e ottanta questo fa due cento e quindici quindi direi che lo butto qua e la pistola e gli vado a far fare danni da plasma magari la pistola tradizionale la buttiamo qua in fondo ok abbiamo la pistola che fa danni plasma la quattro invece sembra praticamente uguale usano le stesse munizioni ma va bene facciamo danni da plasma allora devo fare una cosa ora la missione vi faccio vedere subito allora abbiamo dobbiamo andare dobbiamo procurarci un mezzo di trasporto ok quando la luce tornerà allora praticamente quello che abbiamo capito dobbiamo andare a togliere a prenderci un pezzo di un generatore di un villaggio di diseratori ma a un costo molto alto nel senso che loro restano senza corrente e il capo del villaggio vuole che noi facciamo questo perché almeno i diciamo questi diseratori tornano io bevo l'acqua e mangio un po' di saltonno no devo bere ancora devo bere ancora perché eh non posso bere la birra però mi serve qualcosa stimolante nasale succo di similmela posso berlo sì e poi i pepillole tirami su ma facciamo anche questo ok e adesso dormiamo dormiamo un po' e non mi sono non mi è risalito proprio per niente la barra della fame ma va bene allora qua vabbè qua per andare di qua si dorme ok dormiamo per 8 ore dai vediamo speriamo che non sia notte quando ricominceremo però è rilassante va bene va bene questi dispositivi di surveillanzia sono state vedere costantemente i spostamenti per ignorarli ok manteniamo il tasto E e andiamo verso la destinazione destinazione che dovrebbe essere molto lontana eh in fondo niente eh speriamo bene dai speriamo bene Voglio vedere questo nuovo fucilozzo qua 24 colpi E' un fucile d'assalto Dobbiamo fare tra i 100 metri Quindi direi che possiamo andare Non è di là che dobbiamo andare Perché Cimitevo di lungacqua Non mi interessa Dobbiamo andare là Vorrei capire Indirizzare l'energia dell'impianto geotermico Consiglio dei messaggi di reddito No, questo Questa qua Questa qua Dobbiamo andare Invece dalla parte Ok, no Non è neanche eccessivamente lontana Però rischiavamo di andare Molto bello questo effetto sfocato Cosa penso del gioco Il gioco non mi dispiace La difficoltà è veramente alta Niente di impossibile Basta ingegnarsi un po' Bisognerà vedere se riesco a reggere Alla frustrazione Ok, quella è una canaglia paredone A questo punto che cosa possiamo fare? Abbiamo con noi lei Gli diciamo Vieni giù Abbassati A questo punto Gli diciamo di attaccare col tasto X Ovviamente ci hanno già dato una palata Arrivo qua avanti Giro Metto in bullet time Poi vabbè È vero che con questo espediente Del casco Io posso sparargli in testa E loro non muoiono subito Però Vabbè Iniziamo Comunque a giocarcela In modo tattico Quindi non andando Allo sbaraglio Un po' la borderlands Quindi Questa è una cosa positiva Ovviamente Ovviamente I save Non sono troppo severi E ci fanno ripartire Comunque da lui Ovvio se moriamo adesso Ripartiamo dalla nave Però Se ad esempio Arriviamo a destinazione Il save Salva lì Quindi Ok Un canire maestrato Non ci farà del male Ma se Mamma mia il plasma Oh cazzo Ecco Vedete Adesso sono morto La cosa brutta È che È difficile capire Dove sono i nemici Cioè Ci si va a riparare Dietro delle cose Ma Vedete Siamo ripartiti da qui Va bene Ripartiamo Andiamo cercando di Di essere un po' più Ovviamente Il ragionamento È quello Che devo andare A riselezionare l'altro Ovviamente Il ragionamento è Se Ci facciamo problemi Per Queste Minchiate Non giochiamo più A nulla C'è gente che Si finisce addirittura Da sol Voglio dire Quindi Va bene Dai Cerchiamo di arrivare là Non Dico Che non dobbiamo Combattere Però cerchiamo di farlo In modo giusto Cerchiamo di Centelinare i colpi Perché i colpi Non ne abbiamo Ok Adesso Tu Donna Devi attaccare lui X Ok I'm on it We're all together Ok Sta scappando Ok Ok L'abbiamo ucciso L'abbiamo ucciso Ma è morta anche lei Quindi a sto punto Lei è andata Sarà bello Sarà bello da capire Questo perché Lei è morta E quindi Ora io mi curo Ma lei Bu Perfetti Ok Lei è morta Qua potremmo potenziargli Le varie cose Ma è andata Ma è andata E non ce l'ha fatta Vabbè pazienza Pazienza Prossimiamo così Voglio vedere anche quanto Quanto peserà sta cosa Ma era lei quella Sì sì No infatti Niente È morta Pazienza Vediamo cosa succede È un esperimento Perché comunque Magari tanti di voi Se lo stanno chiedendo Come me lo sto chiedendo Anch'io Perché Perché Eh Là c'è il canide E lo lascio in pace Eh no Perché mi Eh infatti Ha lasciato il gruppo Ah probabilmente Probabilmente Non si rialza La posso recuperare In villaggio Dopo proviamo a vedere Se la troviamo là O se Ne dichiarano il lutto Insomma E magari poi muoio Oh cacchio Vedete Ho trovato la cima del vulcano Ovviamente Se non c'è un po' di difficoltà Un po' la paura Di dover rifare tutto Eh Voi andate allo sbaraglio Quindi Ma Eh Dobbiamo andare di là Eh Direi che qua La cima del vulcano Non ho trovato niente Scendiamo dall'altra Là c'è la città E Niente Andiamo da questo 120 metri Bello il posto Poi tra l'altro Ho preso il perk Che mi fa fare più danno Quando sono da solo Faccio il 25% di danno in più Quindi magari Mi trovo anche bene Da solo Non lo so Perché comunque Non essendoci giocatori limitati Mi piace Che succede Che succede Oh che cacchio è sto coso Non caricare adesso Ok Finito i colpi No Grazie a Dio Ok Da soddisfazione Perché sopravvivete Mi rilassate un attimo La vita comunque Un minimo risale Le munizioni finiscono Quindi Interessante Si fa sempre dell'ironia Sulla mia scarsa abilità Nei videogiochi E al momento Non sta andando male Allora Praticamente Io adesso Tenendo il premuto aereo Metto via l'arma Vediamo Eh no Sentinella No 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 Mi scusi Mi scusi Mi scusi Mi scusi Cioè Devo andare da loro Ma non posso No Sono tutti Sono tutti iper allarmati No 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 Voglio provare Andare di là Non posso parlare Con qualcuno Qui Eh magari munizioni Sto prendendo tutto Senza neanche guardare Che cos'è Ma Va bene Quindi Avendo detto Bioware No Obsidian Bene Si no In effetti Un lapsus Che non dovevo fare Soprattutto con Un team Che mi ha avuto Fiducia in me Quindi Mi scuso Ancora Ma Devo andare là Ma posso saltare Dentro Scusi Non gli fa Una ceppa No Direi che No Scusi Vorrei Ma se io colpissi Ok Tipo un colpettino No Si può saltare Dentro C'è il vetro A parte che non si vede Ok Qua sembra esserci Qualcuno Ma Forse ce la possiamo fare Si Sembrerebbe Fattibile Cos'è che hai tu Hai dimmi che i munizioni Dai Dai munizioni Munizioni Tu Aia Curati Vediamo quante colpi abbiamo Vedete che non capisco Dove arrivano i colpi Oh Il drone è da combattimento Finiti i colpi Non ho già fortuna che è scarso Ok 9 Morto 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 Niente Non A questo punto Vediamo quanto è cattiva La La partita E da che punto ci fa ripartire Di nuovo In effetti È cattivo Dipende se Abbiamo voglia di perdere tempo O meno Io voglio provare Adesso Come ultimo esperimento Facciamo un esperimento sociale E la facciamo Facciamo morire Questa tizia qui E vediamo se Ce la recupera Nella Nella città O meno Sarebbe un sollievo Per me Vederla recuperata Ernest Direi che non è Un Un nemico Di là si va per la città E di qua invece si va dall'altra Va bene Proviamo Proviamo subito Vediamo Poi in caso Me ne vado in In città E vedo se c'è la possibilità Di reclutarla Nuovamente O addirittura Anche alla nave Magari Che ne sai Allora Voglio vedere Adesso se Mi tengo L'arma migliore Pronto per Fa fuoco Signorina Adesso Si scatene Esce il mio Lino Attacca Aia Si non sbagliano Un colpo Sti qua Ok L'hanno uccisa Ok Lei se n'è andata E niente Adesso uscirà dal gruppo Facciamo una prova Voglio vedere se la ritrovo Di là Qua ho già preso Vediamo se non la fa Risponare nuovamente Dall'altra parte O meno Adesso dovrebbe dirmi Che è fuori dal gruppo Bello Poi comunque L'idea di prendere questa nave E andare nello spazio E dopo andare in altri pianeti Non mi dispiace Non è molto realistica Questa vicinanza A questo pianeta Ma Me la elimini Dal Mi sa che La sto facendo Un po' fuori dal vaso Perché Ok Adesso è stata Rimossa E vediamo se la ritrovo Sulla nave E poi proviamo in città Così almeno ci leviamo un dubbio E non abbiamo buttato Un gameplay fallimentare Perché Sono morto Sono arrivato in quella zona E in realtà Dalla missione Sembrava dovessi Parlare con sta gente Ma con sta gente Non si può parlare Devo trovare un modo Di accedere Senza affrontarli Perché ovviamente Si potrebbe pensare Che Li dobbiamo affrontare Tutti In realtà No Eh no Eh no 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 Non c'è no Lei Vediamo Ok C'è un procedura Di sicurezza Tutto sigillato Sigillato Vi sto facendo anche Un giro per l'inaffidabile Che è il nome della nave Di The Outer Worlds Qua si scende Eh niente Si scende Andiamo Andiamo a vedere in città Adesso Vediamo se abbiamo La possibilità Di fare un viaggio rapido Sì Ah no Non posso farlo Devo Devo Posso farlo solo al contrario Cioè posso tornare La mia nave Servirebbe forse Più via di mezzo Nel senso che La difficoltà comunque Normale Il gioco viene Definito troppo semplice Così Può frustrare Un pochino Magari solo Solo all'inizio Però È un po' Un po' tosto Perché Non abbiamo fatto granché Però ci ho messo cura Ho aggirato i nemici Così Siamo arrivati là E siamo morti brutalmente Quindi Bisognava magari studiarlo Un pochino di più E magari Una volta entrati Probabilmente Perché mi è già successo Probabilmente una volta Entrati nell'edificio Avremmo avuto il save Quindi Saremmo ripartiti da lì Però Ovviamente C'è chi Magari Vuole andare spedito E giocarsi la storia Dato che so già Che comunque Si Ottengono armi Fin troppo potenti Da subito Giocando In questo modo A facile Intendo Magari Non Non è il caso Comunque C'è una nave che sta arrivando Voglio andare al conservificio Edificio Che poi ho scoperto anche altre cose interessanti Nella giocata che ho fatto Non registrato Insomma E veramente Ci sono alcuni aspetti veramente caratterizzati bene Comunque Lei l'ho persa Mi sembra un po' Un po' assurdo Che comunque Lei non ci sia più Cioè è morta definitivamente Perché Perché non ho superato Perché non ho superato Un Uno sconto Cioè alla fine può morire chiunque No Questa è la Cavolo è la Assoluzione spaziali No Non Ecco Dov'è il conservificio Come si chiama Allora Qua c'è L'aporto di botanica C'è una missione Che da fare Che dobbiamo fare Questa Una chiesa General Store Non sono ancora andato Nei negozi Negozi del barbiere Molto bello Reparto di manutenzione No Sarà quello con scritto Canary Che abbiamo visto prima Eh sì No per forza questo Prendo l'ascensore Allora su Vediamo i piani alti Magari la La troviamo nuovamente Però io A sto punto Inizio a dubitare Non ha Non ha senso Questa cosa Che Cioè non credo Ci siano personaggi Comunque Infiniti In gioco E infatti Non c'è più E Volevo parlarti Di una cosa No Devo andare No Assolutamente No Chiave di AID Niente no Se n'è andata Se n'è andata Per sempre Non mi piace Questa cosa Dico la verità Eh niente Pazienza Niente ragazzi Allora Questo video L'ho fatto Comunque Per farvi vedere Un altro aspetto Di gioco Che è quello Della morte Di PNG O almeno Volevo scoprirlo Insieme a voi Per scusarmi Di aver Comunque Sbagliato Sia la registrazione A aver fatto Una pessima qualità Audio A livello Di microfono Di voce E soprattutto Per aver citato Bioware Anziché Obsidian Il gioco Sviluppato da Obsidian Distribuito da Private Division Ed è una cosa Che ci tenevo A correggere Piuttosto che Cancellare il video Detto perché Non facciamo Un altro gameplay Abbiamo fatto Un po' di combattimento Molto fallimentare Abbiamo scoperto Che la tizia lì È morta Definitivamente E probabilmente Non la vedremo più Quindi io Devo Riprendere All'ultimo salvataggio Manuale Che è Un po' di tempo fa Insomma Bene o male Però comunque Si può agire Sui salvataggi Ricordiamo Che la modalità Supernova Non si può Diciamo Ci si può Teletrasportare Solo verso la nave Non Dalla nave Ad altri posti E si può salvare Solo lì Si può dormire Solo lì È tosto Secondo me Non è proprio Bilanciatissima Il fatto che loro muoiano Non lo so Cioè Se poi qualcuno Ha già giocato Il gioco Spero possa darmi Una risposta Ma Se io Il gioco Mi dà 5 personaggi Questi 5 personaggi Esempio E poi non ho guardato Non ho voluto spoilerarmi Ma se lo sapete Ditemelo Mi dà 5 personaggi Ognuno con le sue peculiarità Le sue mosse Il salire di livello Potenziale E poi Nel primo scontro a fuoco Con due banditi Muoiono Li perdo per sempre Ok Cosa vuol dire Devo ricaricare Il problema Che ricarico Il ricarico Ce l'ho magari 20 minuti prima Serviva una cosa Magari un po' più bilanciata Se i personaggi Sono limitati Magari Lasciameli fuori Per un bel po' Ma non farmi Morire del tutto Se sono 5 Li posso perdere subito Oppure Mettermi Salvataggi più frequenti In modo che io possa salvare Dico No Non la voglio perdere E come curo io La tattica Le munizioni Piuttosto che l'armatura Vado a potenziare La sua Comunque Spero Vi possa essere stato d'aiuto Questo Questo nuovo video Spero Che mi dite una risposta Per quanto riguarda La morte dei PNG Dei Companion Fatemi sapere Come sempre Qua sotto nei commenti E alla prossima ragazzi E Ciao ciao